Buona domenica a tutti da The Crypto Academy oggi apriamo questa domenica di festa con un trade assolutamente profittevole quindi l'abbiamo anche pubblicato nella nostra pagina facebook di The Crypto Academy un trade che abbiamo passato nel gruppo pubblico di criptovalute e blockchain che poi vi faremo vedere un trade su engine bitcoin che possiamo vedere qui ci trovavamo intorno a 1300 satoshi in questo momento abbiamo deciso di aprire il nostro trade quindi piazzare degli ordini di acquisto a 1265 circa fino a 1240 e altri due zone di buy che avevamo individuato con la nostra strategia che abbiamo utilizzato in accademia abbiamo imparato anche nell'accademia di criptovalute di trading come possiamo vedere qui dopo qualche giorno ma l'andremo a vedere direttamente sui grafici questa è stata poi la situazione la reazione il prezzo quindi è sceso fino alla zona di 1261 circa perciò ha agganciato con precisione millimetrica il nostro buy che avevamo piazzato e che con speranza avevamo anche aspettato che il prezzo scendesse a quella zona ovviamente poteva anche non prendere questo ordine lo ripetiamo non sempre gli ordini di buy o gli ordini di sell poi vengono agganciati perché può essere che il prezzo cambi e risponda leggermente sopra o leggermente sotto in questa zona poi il prezzo come vediamo ha reagito molto bene ed ha avuto questa forza questa spinta rialzista che ci ha portato al profit del 6,44 per cento lo possiamo vedere direttamente qui nel grafico potete vedere che si sono agganciati gli ordini con una precisione incredibile possiamo dire che anche qui c'è stato un po di fortuna assolutamente insomma la possiamo mettere anche in preventivo però se noi sappiamo dove posizionare i nostri buy abbiamo molte più probabilità e possibilità che la fortuna chiamiamola così sia dalla nostra parte che non contro adesso vediamo che il prezzo è entrato in una zona dove possibilmente ci saranno degli ordini di vendita e quindi una parte di quest'ordine è stata deciso di vendere perciò si prende profit un 6 per cento come potete vedere da da qui guardate da 1260 allo stato attuale 3340 sono esattamente il 6 e mezzo per cento di profit su bitcoin e questa situazione poi in usdt è ancora migliore andiamo a vedere in usdt perché poi nel frattempo bitcoin è cresciuto rispetto al dollaro ok quindi questa è stata la situazione aspettate che in usdt ci sarebbe stata questo tipo di operazione questo tipo di operazione eccoci qua siamo la nostra area di ordine che è qui e quindi andiamo a vedere più o meno quale sarebbe stato il profit potrebbe anche essere esattamente lo stesso invece è leggermente superiore qua siamo intorno agli 8,84 per cento di profit rispetto al dollaro perciò operazione estremamente positiva togliamo un po di colori che ne abbiamo anche troppi operazione estremamente positiva adesso ovviamente si possono fare due cose c'è da andare a analizzare bitcoin e vediamo se bitcoin scende e pensiamo che possa scendere rispetto al dollaro noi possiamo anche chiudere questa operazione in valore usdt e poi rivalutare eventualmente altri ingressi oppure rimaniamo su bitcoin e aspettiamo a vedere cosa fa bitcoin comunque siamo estremamente soddisfatti di questa strategia strategia che abbiamo imparato e messo in pratica da non molto che stiamo tuttora mettendo in pratica e vedendone i risultati che sono assolutamente performanti ed ottimali è una strategia ottima facile da utilizzare che consigliamo poi a tutti coloro che trattano direttamente con l'academy avete già iniziato ovviamente perché passiamo le analisi in modo gratuito nel gruppo a chiederci informazioni su alcuni segnali noi non facciamo segnali non facciamo nulla di tutto questo e quando ci sono delle analisi che facciamo semplicemente vengono condivise all'interno del gruppo e chi vuole può prenderne spunto facendo a sua volta delle proprie analisi quindi non basatevi mai ciecamente sulle analisi di qualcun altro perché poi se dovesse sbagliare siete pronti a dare la colpa a quel qualcun altro invece che a voi stessi per non essere in grado di farvi delle analisi ecco che noi puntiamo principalmente su formare le persone adesso non abbiamo niente in programma scusate però può essere che prossimamente abbiamo una bella iniziativa di vacanza formativa come piace fare a noi che abbiamo già fatto in Thailandia e che possiamo ripetere perciò divertirsi e formarsi ma vedremo prossimamente scriveteci sotto il video se avete qualche criptovaluta che volete analizzare oppure all'interno del gruppo facebook di criptovalute blockchain scrivete o condividete anche le vostre analisi in modo di aiutare tutte le persone che hanno bisogno di qualche spunto per poter operare vi auguriamo a tutti una buona domenica e una buona giornata